Molise a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers, piazza della Vittoria 14A, a Campobasso, broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molise a calci Buonasera, ben ritrovati con una nuova puntata di Molise a calci esattamente la numero 364 nella quale andremo ad ascoltare i commenti della domenica pomeriggio i commenti alle partite che abbiamo seguito avremo anche, vi anticipo, due ospiti uno dei quali assolutamente particolare nel senso amante della musica e non solo un molisano residente a Parigi e quindi a breve non anticipo altro a breve sicuramente presenteremo e parleremo anche con lui un giocatore della Chaminade quindi parleremo anche di Futsal davvero tantissimi argomenti per questa trasmissione numero 364 di Molise a calci vi diciamo che in eccellenza il Campobasso si è confermato in vetta la classifica e ha chiesto ed ottenuto di giocare sabato in anticipo contro il Campomarino per poi evidentemente rivolgere il pensiero alla fase nazionale della Coppa Italia quarti di finale tutto questo insieme a Alessia Manocchio buonasera a te e ben ritrovata buonasera a te Gianni, buonasera ai nostri ospiti e a voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al nuovo appuntamento con Molise a calci vi terremo compagnia anche in quest'ultimo lunedì di febbraio e io voglio ricordarvi che potrete seguirci comodamente sul canale 11 per l'Abruzzo e per il Molise nonché sulle nostre piattaforme social YouTube e Facebook inoltre voglio ringraziare per questo splendido abito anche questa sera la boutique di Monique che si trova in via Vittorio Veneto a Campobasso ma non mi dilungo oltre ed è stato anche quest'ultimo weekend di febbraio molto ricco di appuntamenti partendo proprio dal calcio a 5 il circolo La Nebbia Cus Molise è stato ospite in casa del Modena ed è riuscito a conquistare un pareggio di 2 a 2 appunto contro gli Emiliani ed invece purtroppo tutto l'impegno e la determinazione non sono stati necessari alla basket di Serie A1 femminile infatti la molisana Magnolea Basket contro in casa della capolista purtroppo ne è uscita sconfitta con un finale di 65 a 62 per le locali ed infine l'Energy Time Spike purtroppo ha accumulato la seconda sconfitta consecutiva ma ora attesta già la prossima e voglio presentare gli ospiti di questa sera come anticipavi anche tu prima Gianni abbiamo qui con noi Agostino Trotta musicoterapeuta buonasera Agostino ecco tu sei campobassano hai origine campobassane ma attualmente vivi a Parigi e io so che oltre ad essere un musicoterapeuta sei anche un controtenore e stai continuando la tua formazione per diventare psicologo clinico e psicoterapeuta e a partire dal 2008 hai aperto anche il tuo studio privato qui a Campobasso che ha preso il nome di Amore e Psiche e inoltre dal 2017 sei anche diventato docente di musica all'Istituto Leonardo da Vinci di Parigi buonasera a te Agostino è un piacere sicuramente non è usuale avere un musicoterapeuta e un campobassano residente a Parigi tant'è che lo dico per inciso questo appuntamento qui a Molise a Calci lo abbiamo preso davvero tanto tempo fa ci fa piacere che lo hai raccolto grazie a voi la musicoterapia che cos'è? allora la musicoterapia innanzitutto dobbiamo distinguere questo termine in due parole musica e terapia dall'antichità la musica ha avuto degli effetti che sono stati compresi dai nostri già dai greci per esempio quindi effetti sulla psiche oltre che sul corpo la musicoterapia prende piede in Europa come anche in America nel XIX secolo per cui prendendo spunto dalla psicoterapia che viene a svilupparsi proprio a fine secolo anche la musica diventa un mezzo per curare alcune patologie mentali ne parleremo nel corso della trasmissione quindi a noi piace dare un taglio anche alternativo non solo sportivo nonostante questa sia una trasmissione di stampo sportivo Alessia per la presentazione dell'altro opere salutiamo anche Fabrizio Pontico giocatore della Chaminade buonasera Fabrizio buonasera a tutti nella quindicesima giornata avete superato per 13 a 1 l'esernia giusto? sì esatto ci siamo presi una rivincita rispetto alla gara di andata dove abbiamo perso due punti insomma è stata una vittoria larga di risultato che comunque mantiene alto l'entusiasmo in vista dei playoff di questa fine stagione che insomma che ci aspetta quante giornate mancano alla fine Fabrizio? mancano tre giornate e poi insomma se la classifica sarà dalla nostra andremo ai playoff dove si affronteranno affronteremo due gironi si affronteranno le prime quattro squadre di due gironi e poi insomma chi arriverà prima in questi due gironi si scontrerà in una finale secca per arrivare nella categoria superiore quindi grazie un saluto anche all'architetto Fabrizio Pontico diamo i ruoli giusti come si dice diamo a Cesare quel che è di Cesare allora andiamo a vedere il primo contributo di questa puntata di Molise a calci che riguarda il pareggio senza reti del Termoli contro il Fano Alessia partiamo subito anche questa sera con la Serie D al Gino Cannarsa di Termoli nonostante la superiorità numerica in tutto il secondo tempo purtroppo i giallorossi non sono riusciti a sconfiggere la corazzata del Fano concludendo così il match a reti inviolate un match dunque utile ugualmente per i giallorossi che li tiene ancora vicini alla zona salvezza distante ora quattro punti e noi andiamo ad ascoltare Bruno Elwasiri nuovo attaccante del Termoli nuovo acquisto e Andrea Mosconi allenatore del Fano ascoltiamo Bruno Elwasiri nuovo attaccante del Termoli ho visto che hai dato l'anima in mezzo al campo quando sei entrato hai cercato subito di metterti là poi sei caduto anche in aria c'era rigore là che dici? sì c'era non rigore doppio rigore perché poi il guardialine dopo ci ho parlato mi ha fatto come se fosse un cenno che non poteva dire nulla quindi era un rigore oggi per noi è stata una partita molto difficile perché anche se forse era meglio se giocavamo in undici perché loro in dieci si sono chiusi benissimo troppo hanno cercato la ripartenza cioè si sono messi tutti lì dietro quindi essendo una squadra esperta ci ha chiuso quasi tutti le linee di passaggio cross potevamo fare qualcosa in più tecnicamente però l'importante è oggi aver smosso ancora di un punto la classifica penso pareggio strameritato il portiere loro ha fatto parate ha fatto due parate importanti soprattutto nel primo tempo il nostro con tutta non ha fatto una parata magari ecco l'espulsione ha cambiato un po' l'inerzia della gara però è stata penso una bella gara un punto strameritatissimo e magari senza l'espulsione può avere un esito diverso a lei complimenti perché ha saputo leggere almeno come l'ho vista io ha saputo leggere la partita inserendo gli uomini giusti per fermare le offensive del Termoli ma questo è un gruppo di ragazzi dove sono tutti titolari noi io guardo l'atteggiamento mi possono sbagliare un passaggio però l'atteggiamento per rispetto dei compagni sia che partono dall'inizio o dopo quello non va mai sbagliato se non possono far parte di questo gruppo i ragazzi sono stati bravi è normale l'espulsione ha cambiato l'inerzia ci siamo stati di sistemare diversamente siamo diventati magari meno offensivi Allora Agostino Trotta che cosa ti ha spinto a lasciare Campobasso otto anni fa per trasferirti a Parigi e esercitare lì la tua professione di musicoterapeuta ma diciamo che forse si potrebbe aprire un capitolo però abbiamo pochi minuti no in poche parole in effetti diciamo che la ricerca che mi ha spinto ad andare a Parigi una ricerca sicuramente personale ma sicuramente una ricerca scientifica che vede la musicoterapia nella psicanalisi portatrice di tante tanto interesse e tante nuove prospettive in questo ambito che riscontri stavi avendo a Campobasso? ma guarda quando aprì lo studio il canto di amore e psiche in via Cardarelli ebbe un grande riscontro quindi lavoravo sia con pazienti in individuale che in gruppo e collaborando anche con delle istituzioni quindi era un buon punto di partenza il canto di amore e psiche in effetti anche se mi sono trasferito non è mai stato non è mai svanito in effetti ora è diventato un articolo scientifico oltre che un capitolo del mio libro Fabrizio Pontico allora questa Chaminade è assolutamente in ripresa questo testimoniamo sicuramente testimoniate voi con i risultati noi con i nostri servizi perché siamo praticamente presenti a tutte le gare interne che si giocano allo sturzo grande ripresa e soprattutto il gruppo un gruppo nuovo e giovane questo della Chaminade si sai quando all'inizio insomma siamo partiti un po' a rilento perché quando si costituisce un nuovo gruppo tra l'altro con una netta separazione tra giovani under e diciamo over 30 insomma si fa fatica a creare gruppo che poi è quello che conta in queste categorie adesso siamo siamo un bel gruppo coeso amalgamati e ci sta portando avanti anche tanto entusiasmo questo sicuramente è un aspetto fondamentale senti hai detto giovani meno giovani ma allora tu dove sei in mezzo cioè quanti anni hai innanzitutto io ho 30 anni quindi purtroppo sei proprio a metà ma si si dai allora tradisci un accento romano si sente un accento romano come mai non me ne rendo conto ma perché un lieve un lieve un lieve purtroppo no no ho vissuto svolgi la tua professione tra Campobasso e Roma io ho studiato a Roma anch'io insomma sono stato un fuorisede mi sono trasferito dopo il liceo a Roma per studiare sono un architetto e adesso dopo aver svolto insomma la professione anche al nord Italia sono tornato a casa dopo circa dieci anni e adesso insomma svolgo la professione tra Roma e Campobasso ma non ti hanno chiamato i ragazzi del calcio cavallo di Roma per giocare perché ci sono i fuorisede di Firenze c'è la squadra a Firenze i fuorisede di Milano che credo sia la squadra più cospicua e hanno organizzato una squadra a Milano a Roma non ti hanno contattato no no ammetto che c'è stato uno scambio di messaggi ma la chiamata di mister Cavaliere insomma era non si poteva dire di no per cui l'allenatore della sciominata Alessandro Cavaliere quindi è tornato all'ovile diciamo così Fabrizio Pontico allora il Campobasso ha vinto ad Ururi 5 a 0 è stata una festa anche nel segno del capitano storico Michele Scorrano esatto hai detto bene Gianni e noi ci spostiamo ad Ururi dove i locali hanno ceduto al Campobasso la capolista ha infatti sconfitto i padroni di casa con una cinquina portando così a casa la ventunesima vittoria di campionato e mantenendo invariato il distacco di più 5 dalla sua diretta inseguitrice Lisernia e le reti sono stati fermate dalla doppietta di Lombari Guilla Ritraure e Franchi ma noi andiamo ad ascoltare per l'appunto Andrea Troia vice allenatore del Campobasso e Niccolò Marino giocatore dell'Ururi ascoltiamo Andrea Troia 5 a 0 è andata sicuramente bene forse all'inizio un po' sotto ritmo il Campobasso più che sotto ritmo c'è da fare il complimento all'avversario che sicuramente ha preparato la gara sulle qualità e le caratteristiche della nostra squadra c'è bastato poco per capire appunto gli avversari dove ci venivano a prendere ma abbiamo la fortuna di avere un gruppo importante di giocatori che sono molto intelligenti si impegnano tanto e riescono a trovare sempre le soluzioni giuste grazie al Mistri a noi come staff per andare a prendere la partita e così è stato abbiamo visto a colloquio Fitto con Di Meo che era un metro dalla panchina quindi una squalifica tra virgolette solo fittizia quella del tecnico rosso-blu era comunque fuori dal terreno di gioco era comunque fuori il campo permetteva il fatto che potesse stare vicino alla panchina ed è stato un bene lui è per noi come staff soprattutto per i giocatori importante i giocatori sono stati bravi a seguire le sue direttive anche da fuori abbiamo detto in un servizio sta iniziando anche un conto alla rovescia per questo campo basso sta iniziando contro la rovescia che sono le partite che ci mancano anche dopo la grande vittoria contro l'Isernia non abbiamo mai pensato che tutto fosse finito è stata una vittoria importante che però deve dare poi continuità con le ultime partite perché se le ultime partite non le facciamo con la stessa cattiveria la stessa professionalità perché c'è da sottolineare di tutti i giocatori viene meno poi quello che di bello è stato fatto finora Nicolò Marino tanta grinta le occasioni migliori dai tuoi piedi senza nulla togliere i tuoi compagni è andata male come da previsioni per questo Aururi la prima cosa facci complimenti al campo basso perché è una squadra veramente quadrata una squadra che merita di stare lì dov'è sì abbiamo noi abbiamo provato a fare il nostro gioco abbiamo provato a costruire dal basso avevo detto ai ragazzi che non ci saremmo dovuti snaturare e arrivare con tanti uomini su abbiamo provato anche a sorprendere il campo basso cercando di essere un pochino più alti quindi abbiamo portato rispetto però abbiamo detto cerchiamo di essere un po' più spericolati dato comunque il valore la differenza di valore delle rose di cui testimone la classifica però devo dire che sono comunque contento e fiducioso per il proseguo della stagione dobbiamo lavorare e raggiungere questa salvezza adesso stai facendo da gestore dopo le sonoro di Melchiorre in questo momento abbiamo la società si sta muovendo per cercare un allenatore si è affidata a noi un pochino più esperti diciamo ecco per gestire la squadra quindi stiamo cercando di fare una tra virgolette autogestione e io e il capitano e il vice capitano cerchiamo di dare indirizzare i ragazzi nella miglior via possibile per raggiungere la salvezza ecco Agostino Trotta musicoterapeuta risiedi a Parigi l'abbiamo detto più volte dall'inizio della trasmissione ma allora viene da chiedersi che cosa si cura con la musica si può curare con la musica certo con la musica si può curare a partire da lievi sintomi di stress per esempio ma fino ad arrivare a patologie più gravi come l'autismo l'alzheimer o delle gravi psicosi quindi si lavora anche nel campo della psicosi ma forse curare è una parola eccessiva nel senso che attenuare i sintomi di una certa malattia oppure si può giungere proprio ad una ad un tipo di guarigione guarda la guarigione forse in questo dominio medico non esiste del tutto c'è una sorta di cura quindi la musicoterapia può curare delle patologie per aiutare il paziente a vivere una vita sufficientemente buona senti ma come si vive a Parigi forse è una domanda anche qui ci vorrebbero altre due trasmissioni di Molise a calci però possiamo sicuramente rendere l'idea e grazie per l'inquadratura collettiva la nostra regia quindi grazie ad Angelo Pompei e a Massimiliano Chiocchio guarda Parigi è una città magnifica una delle città forse più sognate da tanti quindi il vivere a Parigi è molto interessante perché è una delle capitali europee che dà più stimoli a livello culturale a livello scientifico quindi dal mio punto di vista si vive molto bene si vive molto bene perfetto poi ci dirai anche cosa ti manca del Molise e invece cosa ha in più la Francia rispetto all'Italia ma insomma ne potremo parlare nel corso della trasmissione seguiamo un blocco di Moviola quello dedicato al campionato di Serie D esatto il primo blocco di Moviola dedicato ai momenti salienti di questa giornata di Serie D attraverso la Moviola appunto del nostro direttore Antonio Di Lallo guardiamo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce e brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane, genuine Un brivido dolce di felicità Siamo al sesto minuto del secondo tempo sul campo del Roma City dove il vasto Girardi ha pareggiato uno a uno vasto Girardi che resta in inferiorità numerica torniamo un attimo dietro con il nostro regista Donato Mignogna perché seguiamo il lancio per Zammarchi ricordate ex giocatore del campo basso qui con la maglia rossa ebbene Zammarchi subisce fallo da Gargiulo che lo trattiene andiamo un attimo dietro perché l'arbitro estrae direttamente il cartellino rosso secondo noi fa bene perché questo era certamente fallo da ultimo uomo quindi inferiorità numerica per il vasto Girardi dal sesto minuto della ripresa nonostante questo al sedicesimo c'è il pareggio di Ruggeri davvero molto bello di solito Ruggeri segna su calcio di punizioni o di testa questa volta vedete sull'angolo battuto dalla destra da Hernandez praticamente Ruggeri sotto misura va a colpire il pallone con il piede destro e insacca un gol che è davvero importante per la classifica e per il morale del vasto Girardi ventinovesimo del secondo tempo al Cannarsa dove il Termoli va vicino al gol c'è un cross dalla destra esattamente di Ciofi la palla è tagliata davvero molto bella un cross davvero molto bello sullo sfondo del teleschermo Savventa Carnevale che arriva da dietro eccolo qui vedete colpisce con il destro purtroppo la mira non è precisa e quindi il pallone scivola fuori dai pali marchigiani peccato perché era stata davvero intanto c'era stato questo bel cross di Ciofi e poi anche una bella intuizione da parte di Carnevale che doveva essere soltanto un pizzico più preciso al 34esimo sempre della ripresa ci sono proteste Termoli per questa caduta in area di El Wazni vedete il giocatore con la maglia bianca che praticamente frana a terra ma se andiamo piano ecco quando compaiono le immagini vediamo che il difensore del Fano ha addirittura le braccia larghe adesso francamente non si vede se magari ha tirato la maglietta dell'attaccante Termolese un attimo prima ma nel momento della caduta insomma ci sembra un fallo piuttosto cercato dal numero 19 del Termoli che un fallo reale da parte del difensore Marchigiano all'Aragona 2 a 2 del Matese questa è una protesta della squadra di casa della Vastese in maglia bianco-rossa esattamente al 21esimo del secondo tempo c'è un calcio d'angolo la Vastese voleva un fallo di mani di De Marco che non si vede francamente perché De Marco sembra cercare soltanto la rovesciata anche qui insomma l'azione non è nemmeno molto molto chiara ma per noi non ha colpito assolutamente con il braccio il giocatore dell'FC Matese va per tentare una rovesciata non sappiamo se nello sviluppo corpo braccia il pallone abbia sfiorato anche magari un braccio del giocatore in maglia verde ma insomma da queste immagini francamente sembra giusta l'interpretazione dell'arbitro che ha lasciato proseguire 25esimo del secondo tempo fermiamoci un attimo prima della battuta di Vittorio Esposito perché vi voglio far vedere quanta gente c'è in barriera allora ci sono 5 giocatori della Vastese in maglia bianco-rossa alla loro sinistra ce ne sono altri 3 poi a terra c'è anche un altro giocatore della Vastese nella posizione che adesso viene definita coccodrillo per evitare eventualmente che la barriera possa saltare e quindi il pallone possa scivolare a pelo d'erba a questo punto con 8-9 giocatori della Vastese schierati a protezione della loro porta vedete che cosa fa Vittorio Esposito perché va a cercare l'angolo alla destra del portiere eccolo qui lo trova ed è davvero un gol bellissimo perché la distanza era anche ravvicinata e il gol che consente all'FC Matese di lasciare Vasto imbattuto Allora il coccodrillo questo neologismo che vedo ti ha fatto un po' sorridere Fabrizio ma insomma si dice si dice coccodrillo per indicare il giocatore praticamente disteso alle spalle della barriera proprio come se fosse un coccodrillo nonostante questo Fabrizio Esposito è riuscito a fare un gol straordinario Sì sì l'ha messo insomma la palla sopra la barriera quindi hai l'uso un po' questo coccodrillo ma non solo perché era veramente nutrita la barriera c'era quasi tutta la vastese lo possiamo rivedere con questa inquadratura aggiunta veramente un'opera d'arte calcistica questo gol che è difficile la pennellata insomma un gesto tecnico di qualità al portiere penso non poteva far nulla anche perché la barriera era piuttosto numerosa per cui non vedeva nulla nel Puzzal non credo che esista il coccodrillo poi correggimi se sbaglio no non esiste ma insomma quando si battono i calci da fermo c'è una situazione tattica diversa rispetto al calcio non ci vogliamo addentrare non ti chiedo di calcio oppure un gesto tecnico del genere ti spingi a commentarlo Agostino nel campo calcistico sì questo gesto il gol di Esposito oppure lasciamo stare lasciamo stare e invece tornando con Fabrizio andiamo a rivedere un calcio di rigore chiesto dal Termoli nel primo tempo vedete questo taglio in area di rigore c'è El Wazni il marocchino del Termoli che viene affrontato così dal difensore del Fano qui si è giocato secondo te Fabrizio mi dispiace contraddire l'attaccante ma per me non c'è assolutamente rigore anche perché voglio dire il difensore ha le braccia alzate non credo che sia un contatto da calcio di rigore quindi tu non ritieni che ci sia un'intensità tale da essere falloso insomma l'intervento secondo me secondo me no secondo te no quindi condividi la decisione del direttore di gara di non dare il calcio di rigore al Termoli per quanto riguarda il prossimo turno ci sarà FC Matese Termoli e Vasto Girardi Vastese rivediamo ancora una volta al rallentatore questo episodio che ha fatto infuriare la squadra giallorossa dobbiamo fermarci Alessia un attimo di break pubblicitario ma mi raccomando restate con noi per la seconda parte a tra poco di nuovo in studio puntata numero 364 di Molise a calci vedremo altri contributi legati al campionato di eccellenza e continueremo a parlare questa chiacchierata gradevole sia con Agostino Trotta che con Fabrizio Pontico l'amico Agostino Trotta musicoterapeuta Campobassano residente a Parigi allora parliamo dei generi musicali quale genere può curare per esempio parlavi o tentare di curare la schizofrenia o altre malattie che possono consistere anche in disturbi psichici perché insomma è un argomento che desta abbastanza curiosità sì immagino guarda purtroppo non c'è una ricetta su generi musicali che possano essere più fecondi per l'una o l'altra patologia la musicoterapia tende a entrare in sintonia in sintonizzazione con il paziente quindi utilizzare una musica che per il paziente possa essere utile in quel momento perché magari in un altro momento la stessa musica non potrebbe avere gli stessi effetti quindi chiedo scusa quanto può durare una cura una terapia ideale diciamo allora dipende dalla patologia dipende dal paziente se dobbiamo assistere a un paziente che ha dei disturbi di attacchi di panico facciamo questo caso così da esempio può durare qualche mese anche qualche mese varie sedute con cadenza con cadenza settimanale con cadenza settimanale invece in casi più gravi come una malattia psichiatrica c'è un una continuità a lungo termine a lungo termine insomma senza poi indicare esattamente il periodo Alessia aveva delle domande per te sì ne approfitto perché oltre ad essere musicoterapeuta sei anche uno scrittore so che lo scorso settembre è stato pubblicato il libro che si intitola La voce magica dell'eterna luna che tra l'altro ho anche qui con me mi hai omaggiato di una splendida dedica e so che per l'appunto hai voluto dedicare questo libro a una tua cara amica scomparsa ma parliamo diciamo possiamo citare questa persona che non c'è più sì il libro è dedicato alla cantante italiana Irene Fargo che è deceduta luglio 2022 infatti il titolo La voce magica dell'eterna luna riprende uno dei suoi album il secondo album che è La voce magica della luna quindi continuo a riferirsi a lei il libro prego Alessia e nello specifico vogliamo spiegare a coloro che ci seguono da casa di cosa parla questo libro che tra l'altro è anche bilingue quindi in francese e in italiano sì esatto c'è la prima parte sviluppata in francese la seconda in italiano e il libro consta di sette capitoli e ogni capitolo è una riflessione grazie a un personaggio che può essere un mito tipo le sirene o il San Francesco o Farinelli quindi ciascun personaggio ci aiuta a riflettere su come la voce in questo contesto è stata utilizzata e potrebbe essere utilizzata anche oggi in ambito clinico in effetti quindi da un punto di vista musicoterapico e psicoanalitico andiamo con il primo contributo tornando al calcio di questa seconda parte di Molise a calcio abbiamo visto il primo contributo riguardante Ururi Campobasso nella prima parte adesso proseguiamo sempre con l'eccellenza sì proseguiamo con il campionato d'eccellenza il vittore è conquistata anche per la seconda in classifica Lisernia che in casa del Campomarino è riuscita a rifilare ben quattro gol ai basso molisani per l'appunto firmati dall'impeccabile tripletta di De Filippo e dalla rete di Di Monte invece per quanto riguarda i bianco celesti per l'appunto rete inviolata ma andiamo ad ascoltare Clemente Santonostaso il direttore generale dell'Isernia e Giancarlo Marini il direttore sportivo del Campomarino ascoltiamo Clemente Santonostaso direttore generale della città di Serna Fraterna si riprende la marcia avete ritrovato l'equilibrio soprattutto la vittoria ma avete ritrovato anche il bel gioco contro il Campomarino sì una partita che non era facile una squadra che è stata un po' la sorpresa anche di inizio campionato oggi abbiamo fatto veramente una buona partita un'ottima partita come gioco su un campo non in perfette condizioni e siamo contenti perché comunque a parte la partita di domenica scorsa abbiamo cercato di dare e ridare continuità a quello che è nei risultati pre-campo basso quindi siamo soddisfatti della vittoria di oggi e ovviamente continuiamo a fare punti e poi tireremo le somme senti un De Filippo strepitoso in mezzo al campo ha fatto tripletta il giocatore che hai voluto tu a tutti i costi da quando sei arrivato ai Serna sì un giocatore che ho voluto io che conosco bene ma allo stesso tempo anche poi la società con il presidente Traisci e il direttore Palmigiano hanno voluto anche loro fortemente perché è un giocatore ovviamente importante un giocatore giovane un giocatore che ha voglia di affermarsi ancora di più e che ovviamente ha anche la stessa mentalità di questa società che è quella poi di crescere di fare bene e cercare ovviamente di arrivare quanto più in alto è possibile di raggiungere comunque o in una strada o in un'altra l'obiettivo della società però se dovessi ricordare un po' la situazione di noi abbiamo iniziato a fare sette vittorie di fila che non sto pretendendo sette vittorie di fila al giro di andata dopo Campobasso abbiamo fatto questa escursus di risultati quindi diciamo che francamente non sono queste le partite che noi dobbiamo vincere c'è stato un cambio di allenatore come ben sapete un cambio anche di qualche giocatore nel senso che non abbiamo cacciato nessuno però sostanzialmente abbiamo il mister è stato tanto si è visto oggi anche nel primo tempo una bella squadra con tre occasioni da gol una squadra che siamo sinceri è un altro livello un po' più offensiva comunque sì una squadra un po' più offensiva abbiamo tesserato Blas che è un ragazzo di 17 anni di grande prospettive certo si deve amalgamare dobbiamo guardare a questo punto noi siamo una neopromossa magari il giorno di andata potevamo guardare un play-off ma io ritengo che non si faranno nemmeno i play-off per la situazione che si sta creando ti dico la sincerità registriamo le non dico proteste ma insomma la volontà da parte della tifoseria del Campomarino di ritornare il più in fretta possibile nella sede naturale cioè proprio al Santa Cristina di Campomarino Campomarino che ha giocato quasi tutte le gare il 95% delle gare sul neutro di Portocannone credo solo contro il Campobasso abbia giocato proprio nella sede naturale di Campomarino per quanto riguarda il futsal c'è l'amico Fabrizio Pontico giocatore della Chaminade allora prossimo turno davvero interessante perché si affronteranno due squadre di Campobasso vale a dire la Chaminade e lo Sporting Campobasso quindi aria di derby sabato prossimo Fabrizio assolutamente sì insomma affrontiamo probabilmente la scuola più forte di questa categoria l'anno scorso hanno vinto il campionato quest'anno ci siamo già affrontati in due occasioni purtroppo entrambe le partite hanno visto vincere insomma i nostri avversari però ecco sono quelle partite che che ci piace affrontare sicuramente sarà una bella sfida ecco un vantaggio per entrambe poi si gioca fra giocatori calcettisti di Campobasso si conoscono gli allenatori praticamente sapete tutto l'uno dell'altro questo è un vantaggio uno svantaggio come che ne pensi diciamo alla vigilia ma insomma manca ancora qualche giorno sì sicuramente ecco conoscere l'avversario aiuta insomma entrambe le squadre io penso che ecco il bello di questi di questi match è che insomma riempiono i palazzetti per cui è una di quelle partite in cui il livello agonistico aumenta sale e poi secondo me sarà più che altro una questione di testa più che di tattica tornando al calcio il Campobasso da Campobassano lo segui segui le sorti ma guarda ripeto giocherà in anticipo sabato prossimo contro il Campomarino sì sì ho seguito i risultati a distanza so che insomma ha vinto lo scontro diretto con l'Isernia la giornata scorsa e che comunque si sta apprestando a vincere un campionato di eccellenza con ampi meriti va bene torniamo sempre al calcio andiamo a vedere il prossimo contributo andiamo a guardare per l'appunto il prossimo contributo e una vittoria di misura è stata conquistata dalla Virtus Gioiese che per 1-0 per l'appunto ha vinto contro un altalenante Boiano grazie al gol di Pascale ma ascoltiamo Antonio Santomassimo il capitano della Virtus Gioiese e Savino Gianni Ruberto allenatore del Boiano ascoltiamo Antonio Santomassimo capitano della Virtus Gioiese tornate a vincere in casa fondamentali questi tre punti per la salvezza per il morale un po' per tutto sono tre punti importantissimi li aspettavamo da tanto perché diciamoci la verità stiamo lavorando sodo con la coppia Ferrucci Geloso che tutti i giorni cercano di farci stare tranquilli perché essendo una squadra molto ma molto giovane non è facile raggiungere un obiettivo che per molti è semplice perché tutti parlano di questa eccellenza molisana come un campionato tranquillo ma la devono vedere l'eccellenza molisana perché è un bel campionato e soprattutto è un campionato difficile sì abbiamo concesso un gol su una una disattenzione una una leggerezza difensiva non lo dovevamo fare perché poi andare in svantaggio su questi campi sappiamo come vanno a finire le partite mancano i palloni si perde tempo gente a terra si è giocato pochissimo il secondo tempo e ci sono state tantissime imprecisioni soprattutto davanti non siamo mai riusciti nonostante avevamo il controllo del gioco non siamo mai riusciti ad essere veramente pericolosi se non nel finale col colpo di testa di Coulibaly diciamo in linea di massima è stata una partita negativa siamo a metà il girone di ritorno comunque siete a distanza di sicurezza dalla zona rossa e resta comunque insomma un buon cammino per voi io penso che tutto sommato il cammino sia buono solo da fastidio scoccia perdere queste partite perché dobbiamo dobbiamo al di là di quella che può essere insomma la classifica i punti che abbiamo in questo momento noi dobbiamo dobbiamo crescere dobbiamo crescere sotto tutti gli aspetti oggi non abbiamo fatto una partita positiva siamo caduti in quello che è il loro gioco metterà la partita sul nervosismo sulle mischie questo non ci appartiene quindi sono sono deluso per quello più che altro al di là di quelli che poi sono i punti in classifica perché il camionato è ancora molto lungo Agostino Trotta abbiamo detto Campobassano residente a Parigi insomma non è che ce ne siano molti probabilmente probabilmente ma il pensiero al Molise c'è sempre oppure negli ultimi otto anni è svanito si è attenuato si è allentato no assolutamente no il cuore è sempre Campobasso il Molise l'Italia ma pensa tu che sto collaborando con un centro psichiatrico a Parigi dove prossimamente mi accingerò ad aiutarli a insegnare a fare gli gnocchi italiani insieme ai pazienti psichiatrici quindi comunque un filo conduttore appena hai sentito gli gnocchi hai detto ho detto guarda hai sentito qualcosa ti è venuto in mente qualcosa di familiare assolutamente infatti ho detto ora che andrò in Italia farò più esperienza con la mia mamma per imparare a fare meglio gli gnocchi e anche i cavatelli in generale credo insomma sia difficile ritornare con una certa frequenza normalmente cerco di rientrare in Italia almeno due volte l'anno un periodo estivo e Natale quando non è possibile Natale ecco slitta sulle vacanze francesi a febbraio ma lasciando perdere il Molise ma dove è più avanti l'Italia della Francia e viceversa quale può essere invece la cosa nella quale il campo nel quale gli italiani sono imbattibili dopo otto anni di tua permanenza a Parigi le savoir faire il saper fare esatto sì per quanto ecco la Francia sia una grande nazione l'Italia è una sua cugina sono due cugine culturalmente ma quello che forse mi manca di più in Francia dell'Italia è questo saper fare l'italiano questo vivere nella semplicità nella solarità nel calore italiano che è tutto italiano che invece i francesi non hanno sono un popolo un po' chiuso può darsi si possono trovare delle personalità più chiuse come un po' tutti i paesi nordici come però poi ci sono delle eccezioni e ci sono dei francesi molto aperti con i quali nutro un'amicizia molto stretta quindi comunque però c'è da dire che i francesi adorano l'Italia e gli italiani ogni volta che incontro persone nuove vedo il loro sogno italiano hanno negli occhi nelle loro parole quindi hai riscontrato questo stando a Parigi allora noi dobbiamo fare un'altra piccola pausa pubblicitaria Alessia facciamo l'ultima sosta pubblicitaria di qualche minuto ma mi raccomando restate con noi di nuovo in studio rush finale di Molise a calci nel quale oltre a condividere altre situazioni altre idee con i nostri ospiti vedremo il blocco di Moviola e il top e flop che cosa hai apparecchiato per questo lunedì di febbraio l'ultimo l'ultimo lunedì di febbraio mi sono concentrata per il top sulla promozione invece per il flop sull'eccellenza guarderemo più tardi per l'appunto il top e flop ma io direi di andare a guardare guarderemo più tardi anche il secondo blocco magari ecco ci fermiamo a me piace molto parlare diciamo ci fermiamo un attimo ancora a parlare con Fabrizio Pontico perché insomma 13 a 1 non è un punteggio così frequente in generale cosa è successo insomma netta superiorità devo dire della Chaminade sull'Esernia sull'Esernia sì esatto questa stagione insomma ci ha caratterizzato la buona difesa piuttosto che il buon attacco sabato scorso abbiamo affrontato la gara abbiamo approcciato la gara in maniera esemplare che però ecco sì non è usuale chiaramente come risultato penso hanno condizionato i due rossi ai portieri insomma partita poi condizionata da questi episodi hai sentito l'esperienza del nostro molisano conterraneo Agostino Trotta qui presente che idea ti sei fatto insomma musicoterapeuta che è un mestiere sicuramente in voga ma nel senso non ne conosciamo moltissimi insomma musicoterapeuti una branca non diffusissima molisano residente a Parigi anche sul popolo francese Fabrizio io sono sulle ultime espressioni sulle ultime dichiarazioni fatte prima della pubblicità riguardo a musica io sono un grande appassionato personalmente anche io la utilizzo come terapia personale insomma per rilassarsi per caricarsi la musica è sempre parte di me per quanto riguarda i francesi ecco io ho avuto l'occasione di conoscerne tanti nel periodo Erasmus e mi sono un po' ricreduto perché insomma c'è una una convinzione apparentemente potrebbero sembrare molto snob freddi almeno quelli che ho conosciuto io insomma sono sempre stati molto disponibili persone sempre molto allegre e disponibili quindi avalli quanto detto da Agostino limitatamente alle tue esperienze avute con i francesi sì allora Alessia lo dicevamo prima abbiamo anticipato andiamo a guardare il secondo blocco di Moviola concentrato per l'appunto sulla ventiduesima giornata di eccellenza e promozione e andiamo a guardare la Moviola per l'appunto a cura del nostro direttore Antonio Di Lallo guardiamola insieme in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripalimosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce e brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità 36esimo del secondo tempo ad Ururi Campobasso che ha vinto agevolmente 5 a 0 questo è nel finale un tentativo di autogol di Franchi giocatore del Campobasso vedete va a colpire di testa naturalmente in maniera assolutamente involontaria però l'episodio è abbastanza curioso perché c'è il cross di Marino calcio di punizione di Marino Franchi per liberare la sua area di rigore in sostanza colpisce all'indietro la palla colpisce il palo e quindi la porta di Rienzo resta imbattuta 26esimo del primo tempo a Campobasso dove l'Isernia ha vinto agevolmente 4 a 0 qui però se l'è vista brutta perché sul cross di Finizio vedete ci sono tre tentativi consecutivi del Campobasso Finizio mette dietro arriva Santoro che colpisce il palo poi è lo stesso Santoro che sulla ribattuta si avventa colpisce ancora il portiere dell'Isernia davvero molto bravo in questa circostanza la palla finisce a Finizio che spedisce alto quindi tre opportunità per il Campobasso il campo marino tutte insieme in questa circostanza poteva anche trovare il gol la compagine Adriatica l'Isernia però insomma dall'alto della sua forza tecnica ha dominato la partita tredicesimo del primo tempo a Piedimonte Matese dove la Gioiesa ha battuto il Boiano 1-0 proteste Gioiese al tredicesimo come dicevo per un presunto fallo di Ciocia giocatore con la maglia bianco-rossa sull'attaccante Alto Mare francamente ci siamo anche avvicinati con la lente di ingrandimento ma non ci sembra che Ciocia tranne un braccio contro braccio insomma assolutamente veniale non ci sembra che Ciocia commetta dei falli ai danni dell'attaccante della Gioiese per cui ha fatto bene l'arbitro il signor Piciucco di Campobasso ad ignorare questo episodio trentanovesimo del primo tempo va in vantaggio la Gioiese torniamo un attimo dietro perché il gol della squadra campana è frutto veramente di un errore di Di Camillo ancora dietro perché l'errore è precedente ancora qui dietro eccolo qui vedete Di Camillo che ha un compagno alla sua sinistra un altro più in là però Di Camillo sbaglia il tocco adesso possiamo andare avanti si inserisce Pascale che entra in area e supera Borreca è il gol che ha deciso la sfida in favore della Gioiese un episodio della partita tra Aurora Alto Casertano e Sesto Campano c'è il cross di Scasserra qui abbiamo il campo largo quindi possiamo giudicare ecco nel momento in cui tocca palla Scasserra che è questo vedete a centro area c'è un altro giocatore in maglia rossa del Sesto Campano si tratta di Sam Sam che è in posizione regolare perché è tenuto in gioco dal difensore in maglia celeste alla sua sinistra secondo noi è più dietro il difensore rispetto a Sam Sam andiamo avanti con le immagini perché parte il pallone Sam Sam va a correggere di testa l'arbitro a nulla per fuorigioco che probabilmente non c'era l'arbitro del signor Brentegani di Verona trentesimo del secondo tempo a Baranello dove c'è un calcio di rigore non concesso dal signor Carano di Campobasso che invece poi ne ha concesso un altro al Termoli 2016 come abbiamo visto ieri sera a Domenica Sport che non c'era qui invece il calcio di rigore c'era perché vedete la palla cerca di spizzarla in picciatore alle spalle di tutti c'è Polletta vedete che proprio lascia il gomito lì secondo noi in maniera anche volontaria questo era calcio di rigore in favore del Termoli 2016 l'arbitro il signor Carano invece non lo ha concesso poi ne ha concesso un altro che non c'era siamo a Trivento dove ha debuttato nel campionato di promozione il signor Piano di Campobasso figlio d'arte al quale auguriamo naturalmente tanta fortuna e un'ottima carriera siamo al trentasesimo del primo tempo c'è questo lancio di Mono Atebba per Cirenei vedete che in area spara con il destro il portiere dell'Altilia Sammenium è battuto ma la sfera sibila di poco a lato poco male perché il Trivento vincerà 1-0 29esimo del secondo tempo a Nuova Cliternia annullato un gol a Marcucci fuori gioco che c'era perché se vediamo il momento in cui tocca il pallone eccolo qui vedete che è questo un attimo prima è questo sulla sinistra del teleschermo si vedono i calzettoni bianchi di Marcucci attaccante della Cliternina che era sicuramente al di là della linea difensiva del Montenero vedete anche l'assistente sullo sfondo del teleschermo molto attento e diciamo anche in linea andiamo avanti con le immagini perché la palla arriva a Marcucci buona l'interpretazione dell'arbitro il signore Sposito di Termoli di annullare questo gol per posizione irregolare del marcatore 44esimo del secondo tempo la stessa partita c'è questo presunto fallo di Aiello difensore della Cliternina su Dottavio giocatore con la maglia rosso-blu ci avviciniamo con la lente di ingrandimento perché qui è molto difficile da valutare perché il numero 5 Aiello della Cliternina sicuramente voleva colpire il pallone andiamo un attimo prima vedete si lancia per colpire il pallone ecco fermiamoci qui ancora un attimo avanti quando si lancia per colpire il pallone vedete allora il difensore fa ancora un passo poi vedete questo è il momento in cui si lancia per colpire il pallone diamo proprio un frame davanti perché vedete controlla Dottavio il giocatore del Montenero il difensore non colpisce palla e probabilmente ostacola il giocatore del Montenero secondo noi qui potevano esserci gli estremi per un calcio di rigore in favore del Montenero ricordiamo che la partita è finita uno a uno allora diciamo anche che un giovane Alessandro Saliola è stato convocato nella rappresentativa molisana categoria esordienti ruolo portiere per la prima volta da quando esiste la scuola calcio a Trivento c'è un ragazzo della categoria esordienti convocato in rappresentativa è una grande soddisfazione per la società triventina per il responsabile della scuola calcio mister Molinaro e per mister Gianluca Marone che sta svolgendo un grandissimo lavoro nel suo primo anno a Trivento quindi complimenti alla scuola calcio e al Trivento e in bocca al lupo a Alessandro Saliola davvero di cuore allora possiamo tornare su alcuni degli episodi della rassegna eccellenza e promozione e andiamo a rivedere qualche episodio in particolare per esempio questo Fabrizio Pontico il fuorigioco fischiato alla squadra in maglia rossa il sesto campano dal cross di Scasserra dobbiamo analizzare adesso la posizione di Sam Sam e giudica tu insomma secondo te era o meno in posizione di fuorigioco in base alle immagini alla linea dell'Aurora Alto Casertano sì in base alle immagini da quello che posso giudicare sembra dietro l'attaccante quindi ecco probabilmente non era non era un gol da annullare non era un gol da annullare in base alla posizione del difensore e quella dell'attaccante mentre sulla regola del fuorigioco non ti chiedo perché a volte è un test questo fuorigioco se sai la regola del fuorigioco allora inizi a masticare di calcio Agostino quindi lasciamo stare lasciamo stare mentre andiamo avanti sempre con gli episodi da Moviola del secondo blocco qui c'è un calcio di rigore chiesto dal Termoli 2016 non accordato c'è questo braccio possiamo andare avanti con le immagini qualche secondo più avanti si vede un braccio quello destro di Polletta del Baranello Fabrizio Pontico sì qui il difensore è scomposto sembra che ci sia il tocco di braccio per cui qui magari si poteva anche assegnare il calcio di rigore ma quello che volevo dire si parla spesso nei commenti volontarietà involontarietà sembra ci siano anche dei profili di volontarietà in questo braccio quello che riesci a vedere dalle immagini ecco oddio volontarietà non credo però qui si dovrebbe applicare la regola a me sembra un intervento scomposto per cui quel braccio non dovrebbe essere lì poi di certo non credo che sia volontario Agostino mi sembra che sia oggettivo il tocco con il braccio insomma lo dicono le immagini quindi manca un calcio di rigore al Baranello poi dato successivamente ma poi abbiamo dimostrato anche ieri sera come fosse molto dubbio anzi inesistente quello per braccio di Facchino allora anticipavi qualcosa circa il top e flop Alessia e allora ci concentriamo anche su questo lo abbiamo già anticipato siamo quasi giunti alle battute conclusive ma andiamo a guardare il top e flop di questo ultimo lunedì di febbraio guardiamo top a Cristian De Simone del Baranello che realizza una gran marcatura contro il Termoli 2016 imparabile per il portiere avversario sarà il punto del momentaneo pareggio terminerà 3 ad 1 per i giallorossi ma applausi a De Simone flop invece ad Altiere Ciocia del Boiano che non sono capaci di sfruttare una palla goal importante a pochi passi dalla linea di porta su cross di Maurello sconfitta dei biancorossi in casa della gioiese e testa già alla prossima partita ma che occasione non sfruttata dai matesini è condivisibile questo top e questo flop Fabrizio Pontico sì sì soprattutto il top bellissimo gol dalla distanza di De Simone del Baranello e poi insomma capita anche nel calcio a 5 di sbagliare gol e qui Alessia si è sentita insomma di chiamare in causa due giocatori del Boiano che praticamente erano quasi sulla linea di porta può capitare capita in tutte le categorie anche nella categoria della chiamina nella serie C1 molisana di Futsal insomma sì sì nel calcio a 5 a te mai capitato? non mi fare questa domanda per favore ormai l'ho fatta quindi mi devi rispondere scherzo ovviamente capita di sbagliare un gol sottoporta ovviamente la porta nel calcio a 5 è più piccola quindi è più facile sbagliare a tu per tu per esempio col portiere può succedere e si rifaranno Altieri e Ciocia del Boiano grazie mille a Fabrizio Pontico della Chaminade un grosso abbraccio a tutta la società di Domenico Scarnata e Franco Bossi l'allenatore Cavaliere e un in bocca al lupo a partire già dalla partita contro la capolista Campobasso Crepi innanzitutto e grazie grazie a voi insomma dell'ospitalità e anche per la tua carriera da giovane architetto architetto verde come si dice in questi casi e grazie mille ad Agostino Trotta in conclusione cosa dire come è andata questa partecipazione in tv a Molise a calci in una trasmissione abbiamo detto sportiva ma alla quale diamo anche altri tagli ma guarda intanto tengo a ringraziarti in particolar modo grazie a te e devo dire mi sono divertito tanto perché ecco parlare di musicoterapia in un ambito completamente differente è stato veramente simpatico e dà la possibilità a tanti di poter sentir parlare di questa disciplina certamente adesso quando ripartirai? domenica domenica quindi è stata una breve sosta e poi si viaggia alla volta di Parigi ci si ricarica e si riva a Parigi grazie mille allora Agostino Trotta musicoterapeuta di Campobasso da otto anni a Parigi e grazie mille ad Alessia Manocchio quando ci rivediamo grazie a te Gianni grazie ai nostri ospiti e a voi che ci avete seguito da casa e vi rinnovo l'appuntamento come sempre ogni lunedì alle 21.30 con Molise a calci sempre qui su Tele Molise grazie di nuovo per averci seguiti e buon proseguimento di serata buonasera a tutti Molise a calci in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers Piazza della Vittoria 14A a Campobasso broker di assicurazione info 0874 43 86 35 Molise a calci a Campobasso